Allora, il migliore in campo del match che le Merendez hanno vinto per 3-2 contro la Dinamo Peo e Cirillo, delle Merendez, ma c'è una delegazione di quattro componenti. Partiamo però dal migliore in campo, allora Cirillo, c'è stata questa vittoria nell'ultimo match e la qualificazione ottenuta per il rotto della cuffia per i quarti di finale. Una bella rimonta, dopo due errori del portiere siamo riusciti a rimontare, ha fatto altri due gol, lui ha fatto la doppietta e il gol decisivo. Siamo importanti a divertirti comunque, alla fine non è che abbiamo giocato con cattiveria, siamo sempre impegnati. Senti, questa qualificazione ai quarti di finale come la vedete? Affronterete la squadra favorita, i Fakboy? Secondo noi ce la giochiamo, ce la giocheremo, anche conosciamo, alcuni elementi li conosciamo. Quindi possiamo considerarlo addirittura un derby, questo nei quarti di finale? Fratelli Leone li conosciamo. Quindi è un derby a tutti gli effetti. Senti, Capitan Cedrola rientrerà per... Non lo so, è andato a fare un viaggio fuori, a Istanbul, non si sa quando vuoi. E voi sperate di no, ovviamente. Speriamo di no. Va benissimo, allora in bocca al lupo. Grazie. Grazie, ciao, ciao.